Musica Ben trovati con l'informazione, veniamo appunto ai titoli del nostro giornale. Il 27 febbraio il giudice di pace di Padova ha ricettato il ricorso avverso il decreto di espulsione per pericolosità sociale connessa al rischio di derive terroristiche nei confronti di un cittadino albanese, Kaka Shaban, che alloggiava Padova. Lo straniero era stato allontanato dall'Italia mediante accompagnamento coattivo dalla frontiera lo scorso 20 dicembre perché le indagini della Digos di Padova avevano riscontrato condotte ritenute pericolose per la sicurezza nazionale. Il monitoraggio del suo profilo Facebook aveva infatti evidenziato la pubblicazione di post comprovanti il collegamento diretto di questo predetto con imam radicali, alcuni dei quali già coinvolti in altre indagini inerente al reato di istigazione all'odio razziale e di reclutamento di giovani volontari nelle file dell'Isis. Il giudice di pace nel dispositivo di sentenza ha sottolineato come l'utilizzo di internet non sia meno grave del contatto personale in un ambito come quello del terrorismo internazionale di matrice islamica in cui proprio il web ha rappresentato un contesto privilegiato per la propaganda jihadista. Uno dei due fratelli avrebbe ammazzato l'altro per poi togliersi la vita o forse ci sarebbero addirittura dei colpi a vicenda finendo per morire entrambi. Sono ancora tanti i dubbi che avvolgono la tremenda morte di Pier Matteo e Donatella Rigon. Una certezza però c'è il tragico rimbenimento fatto dagli agenti della questura in una villetta al civico 50 di via Faggin all'estremo capitolo di una dramma familiare. A chiamare la polizia sarebbe stato poi l'altro fratello Mirko Rigon, fratello maggiore delle due vittime. L'uomo a sua volta era stato avvisato da alcuni vicini di casa della coppia che viveva nell'abitazione di famiglia. Tremenda la scena nell'antibagno al piano superiore, due corpi riversi a terra, quello della donna appoggiato al muro con la gola squarciata da un profondo taglio sul pavimento, quello del fratello trafitto da diversi fendenti. A procurarli potrebbe essere stato un coltello trovato poco distante a terra, un lago di sangue. Le prime ipotesi si sono ben presto orientate verso l'omicidio o suicidio, inequivocabili tagli sui cadaveri, mentre non vi sarebbero stati segni tali da poterle far pensare alla mano di una terza persona. Sembra certo che la tragedia si sia verificata al culmine di una lite furiosa. In diverse stanze sono state trovate tracce di sangue che farebbero pensare ad una collutazione con la vittima in fuga verso il piano superiore, inseguita dalla salitore. Tragica scoperta questa mattina nella sede della ditta Ital Service SRL in Via Spagna a Peraga di Vigonza, dove ha trovato la morte l'imprenditore Emanuele Vezzu. Poco prima delle 9 un dipendente è arrivato in sede per iniziare il proprio lavoro, aspettando che il proprietario come ogni mattina gli aprisse. Non ricevendo risposta ha provato in vano a chiamarlo e a telefonargli finché si era volto alla moglie dell'imprenditore che lavora anche lei nella stessa azienda nel settore amministrativo. Vezzu, 56enne, è stato trovato invece senza vita e impiccato ad una impalcatura. Nonostante immediata sia stata la chiamata al 118 i tentativi di soccorso, sarebbero stati i vani sul posto dei carabinieri del nucleo investigativo per i ridievi andati avanti fino a tarda mattinata. Un doppio trapianto di fegato per un malato di tumore, l'eccezionale intervento, è avvenuto a Padova. Il paziente di 47 anni in questi giorni è ritornato a casa e ha ripreso la sua attività ordinaria. Era affetto da multiple metastasi epatiche da tumore del colon e giudicato inoperabile per il numero di metastasi che interessavano tutti i segmenti del fegato. Il professor Umberto Cillo, direttore di chirurgia epatomiliare e dei trapianti dell'azienda ospedaliera Università di Padova, con il suo staff di professionisti altamente qualificati, ha optato per un innovativo intervento che nasce dalla lunga esperienza nell'ambito della trapiantologia oncologica in clinica chirurgica. L'intervento chirurgico si è svolto in due tempi. Nel primo intervento un piccolo frammento di fegato donato da un familiare è stato impiantato a fianco al fegato malato. Dopo una crescita del frammento donato che in 17 giorni ha raggiunto un volume tale da sostenere la vita, nel secondo intervento il fegato metastatico del paziente è stato rimosso per la prima volta al mondo a Padova con una tecnica mini-invasiva in videolaparoscopia. Il fototeam di esperti, circa una ventina di persone specializzate, ha eseguito il delicatissimo intervento. L'intervento, dicevamo, è stato eseguito presso l'azienda ospedaliera e ha avuto inizio alle ore 8 del mattino per concludersi poi alle ore 2 di notte del giorno successivo. E' la sesta volta che sul pianeta viene eseguito questo complesso intervento. Il secondo nel mondo da donatore vivente e Padova ha realizzato lo step 2 per la prima volta al mondo interamente con la tecnica mini-invasiva in videolaparoscopia. Torniamo alla cronaca dove un piccolo boss autodidatta, dall'apparenza studente di medicina e ospite di uno studentato per orfani, produttore e spacciatore di droga invece nella realtà. C'è il suo coltivatore di fiducia, ufficialmente residente in Messico, ma di fatto era giardiniere sui generis nel Padovano. C'è la vecchia tata, ormai anziana, tanto affezionata al giovane trafficante, da accettare di custodire per lui le scorte di droga. I militari della Guardia di Finanza hanno arrestato quindi un giovane milanese, un uomo padovano, oltre a denunciare una 67enne bresciana, sono tutti implicati in un traffico di droga, sventato lunedì grazie ad un ciclo di perquisizione che ha permesso di recuperare quasi 9 chili di droga e decine di migliaia di euro in contanti. Il fulcro del giro di spaccio era a Padova, dove il 25enne Alessandro Deo, nato a Milano e residente a Desenzano del Garda, studia medicina all'università. Ma dietro questa facciata nascondeva fino a ieri un profilo di autentico trafficante che lo ha portato dritto in carcere a Rovigo. A Milano, in un altro immobile appartenente alla famiglia del ragazzo, c'erano 40 mila euro in contanti. In totale l'operazione ha portato a sequestro di 8 chili e mezzo di droga che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 100 mila euro, oltre a poco meno di 50 mila euro già in contanti. I due arrestati ora restano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri, ha distrutto completamente un negozio ed una abitazione nell'Alta Padovana. Il rogo è divampato a Carmignano di Brenta, in via Roma, nell'area agraria Frison. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno lavorato diverse ore per arginare le fiamme e interrompere il rogo. È stata presentata alla stampa questa mattina la 21esima edizione della rassegna dal titolo Vulcano, nuovi linguaggi del contemporaneo. Infatti, prospettiva danza teatro, rassegna promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Padova, in collaborazione con Arte Ven, circuito regionale multidisciplinare del Veneto, torna con una veste rinnovata nel segno della internazionalità. Vediamo. Quest'anno parte la 21esima edizione di prospettiva danza teatro. Dal 2 al 14 di aprile incontreremo le grandi compagnie di danza europee e anche nazionali al centro culturale sanghettano Altinate, nell'Agorà, che verrà allestita per l'occasione e quindi avremo occasione di vedere dei grandi performer. Anche quest'anno le donne del centro Veneto Progetti Donna saranno in piazza a denunciare le continue violenze contro le donne e l'attacco ai diritti conquistati in anni dalle femministe con un presidio per lanciare le giornate di mobilitazione che animeranno l'8 e il 9 marzo prossimo. Circa un centinaio di persone condividono i principi che animano queste giornate di difesa dei diritti delle donne e contro la manifestazione anti-arbortista già annunciata per il 9 e anche autorizzata dalla questura di Padova. Anche l'assessora alle politiche sociali Marta Nalin si è unita alle donne che scenderanno in piazza. Oltre a rimarcare la impossibilità dell'amministrazione di intervenire in merito alla manifestazione che evidentemente non condivide, rimarca però gli aspetti che animano questa mobilitazione. Vediamo. Emerge con evidenza, anche dai numeri, come i minori vittime di violenza assistita siano tanti. È un'attenzione che da qualche anno abbiamo cominciato ad avere in modo importante. Questo rende conto della complessità perché chiaramente anche quando si tratta di accogliere le donne nelle case rifugio, nelle case di fuga, bisogna tener conto anche della presenza dei figli e questo è un elemento perché tutto questo comporta un'attenzione particolare. Sicuramente l'aumento del numero significa che c'è una maggiore consapevolezza, significa anche che i servizi si sono messi in rete tra loro e riescono a garantire un'attenzione e un appoggio più concreto. Proprio oggi abbiamo fatto una riunione per verificare il protocollo che noi abbiamo sottoscritto tra le case di fuga, le case rifugio e il comune proprio per capire come sta andando. Ci sono delle cose da migliorare ma stiamo lavorando in rete e questo è importantissimo. Questo per quanto riguarda la violenza è fondamentale. L'8 marzo è una giornata in cui si parla delle donne in generale, del tema delle discriminazioni, della disparità di trattamento in tutti i campi. Se ne parla nell'ambito del lavoro, se ne parla nell'ambito delle istruzioni. Abbiamo voluto lavorare insieme all'università, in particolare da quest'anno, per condividere le iniziative che ci sono sul nostro territorio ma anche per costruire iniziative insieme, condivise, perché crediamo molto nella collaborazione tra le diverse istituzioni. Ultima cosa, crediamo anche molto nella collaborazione tra le associazioni del nostro territorio che lavorano su questi temi e quindi spingiamo fortemente perché ci siano degli incontri. Noi li facciamo un mese prima dell'8 marzo come anche un mese prima del 25 novembre. Tutte le associazioni possono raccontare le loro idee per celebrare queste giornate e sta già capitando che alcune associazioni si mettano insieme per costruire eventi condivisi. Questo per noi è molto importante. Sarà inaugurata venerdì 8 marzo alle 18.30 all'Odatorio di San Rocco in via Santa Lucia la mostra del premio Calegaro 1921, concorso di gioielleria contemporanea dedicato quest'anno ad un padovano famoso in tutto il mondo per le sue imprese a limite dell'impossibile, stiamo parlando di Giovanni Battista Belzoni. L'iniziativa promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Padova insieme alla storica argenteria Calegaro e con il patrocinio di AGC vede protagonisti gli studenti dei licei artistici salvatico di Padova, il sello di Udine, Vittoria di Trento e gli allievi del corso superiore della scuola LAO Arti Olafe di Firenze e del corso di design del gioiello dei IED, Istituto Europeo Design di Milano. Il concorso è giunto alla seconda edizione ed è rivolto agli studenti dei licei artistici e degli istituti superiori con indirizzi specifici di arte dei metalli, orificerie e design del gioiello. In occasione della festa della donna del prossimo 8 marzo alle vitrine dell'arte in via Roma 157 arriva l'artista Braco la mostra Muse. L'inaugurazione della mostra si terrà venerdì 8 marzo alle ore 11. Grazie a questa iniziativa promossa proprio dall'assessorato alla cultura del comune di Padova con Carlo Silvestrin in veste di curatore delle esposizioni. Ancora la cronaca. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l'ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari del Tribunale Capitolino ha disposto le misure cautelari nei confronti di 5 funzionari del Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria, nonché il sequestro preventivo di circa 8 milioni di euro per fatti di falso abuso d'ufficio e peculato. Le indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica condotta dal nucleo di Polizia Economico e Finanziaria hanno consentito di accertare gravi irregolarità nella gestione del CREA l'ente nazionale per la ricerca in agricoltura. E oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti all'ospedale San Antonio di Via Facciolati a Padova per la caduta di un albero ad alto fusto sopra due auto in sosta nel parcheggio posteriore. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Il personale della squadra dei pompieri, dopo essersi accertati che nessuno era rimasto coinvolto, hanno iniziato a tagliare i rami e poi il fusto dell'albero alto oltre 10 metri. Si chiude qui il nostro giornale, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni raccomandandovi come sempre di andare a vedere il nostro sito www.caffetv24.it per rimanere costantemente informati.